Sono aumentate le denunce di truffa a carico normalmente di persone non identificate attraverso delle modalità particolari. Penso che con un minimo di accortezza e di attenzione si possano evitare queste truffe. In agguato una truffa che ha dell'incredibile ma che continua a mietere vittime anche in Valtellina. Numerose le denunce approdate negli uffici della Procura di Sondrio, il settore quello della compravendita online. La trappola scatta al momento dell'incasso per la vendita di merce ma invece di ricevere il denaro pattuito per la cessione arriva l'addebito e ogni traccia dei responsabili si perde nella rete. Viene chiesto dopo la pubblicazione di una vendita di un qualsiasi oggetto su specie su internet via un contatto telefonico e viene chiesto al proprietario di ricevere il pagamento attraverso particolari modalità, recandosi presso uno sportello automatico, ATM, post, banco, posta o di qualsiasi altra agenzia bancaria e effettuando un'operazione. Chi parla con il proprietario, il venditore della merce, dice che questa operazione serve per accreditare al venditore la somma. In realtà l'operazione determina l'effetto esattamente opposto, cioè si determina un pagamento da parte del proprietario del bene a il truffatore che fa la telefonata. Una tecnica collaudata che colpisce trasversalmente persone di età e professione diversa. In azione abili truffatori difficili da smascherare tra falsi numeri di telefono e finte generalità. Le indagini non sono di facile svolgimento e non sempre portano a dei risultati certi. L'utenza telefonica che viene normalmente utilizzata per queste truffe è intestata a una persona di comodo e quindi non scopriamo il soggetto che ha effettivamente incassato la somma. Si va a individuare la carta prepagata, il titolare dell'Iban corrispondente alla carta prepagata, ma anche questo potrebbe essere un prestanome e quindi non sempre si arrivano a dei risultati. In ogni caso le indagini sono complesse e non si riesce a recuperare la somma di denaro. Quindi il truffato rimane truffato. Quale consiglio si sente di dare a chi ci sta ascoltando in questo momento? Non seguire questa modalità di svolgimento della trattativa e dell'affare. Se un soggetto deve ricevere un pagamento, deve assicurarsi di avere dei mezzi per ricevere il pagamento, e non deve effettuare questa operazione attraverso uno sportello automatico seguendo le istruzioni che gli dà un'altra persona. Questo è importante.